...appunto parla di una partita grande che si porta al circolino Martini di Turo che sta appunto a Turo, nella giornata di Turo, su un'artesana su e si chiama la Giga 2 ...appunto parla di una partita grande che si porta al circolino Martini di Turo ...appunto parla di una partita grande che si porta al circolino Martini di Turo ...appunto parla di una partita grande che si porta al circolino Martini di Turo ...appunto parla di Turo e da me e su di più mi dentro di me è della storia che il tempo è sempre più ma prima un po' è arrivati che è dentro di me e se io pari il compagno da sempre la giudata da qua da papà da pure e mi mi lo inseguro e a grande più partita e guardi il dal ventino che ti ha detto a far giudati Ciao Padre! Banno a loro! No! No canterà la mia! Deve chinteva e viazze! Ma se? Vanno a portare! E questa è la storia di quattro e tutti Guarda me scrivo, a mangiare giù Fuglia d'estia fuori, ma già no a festa in testa La cacera in linea sempre a festa Giugatti, ciao padri Noco la giugata lì E giù e bala, è già la schiena Ma se le... Ma del portalù Ma se le... Ma di che del portalù Ma se le... Ma di che del portalù, se le batte, che è l'ultima Mi sono un luogo portoghiano, ma di fare l'uomo più giù, dai Pulare l'uomo più giù, dai Pulare l'uomo! Grazie!